Un errore umano e alcune prescrizioni di legge non rispettate. Sarebbero queste le cause dell'esplosione del 25 luglio del 2013 della fabbrica di fuochi pirotecnici di Giacomo di Villa Cipressi di Città Sant'Angelo, stando alle 199 pagine della relazione del consulente balistico Pari dei Minervini, nominato dal pubblico ministero della procura di Pescara Andrea Papalia, titolare dell'indagine per la morte di 5 persone, 4 componenti della famiglia di Giacomo ed un vigile del fuoco. Minervini ha dovuto rispondere a due domande poste dal PM. Qual è stata la causa dell'esplosione? E se la ditta di Giacomo era conforme alle normative e alle licenze necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro? Per quanto riguarda il primo quesito, secondo il perito a causare l'esplosione potrebbe essere stata la caduta accidentale di un contenitore con materiale pirico per un movimento errato. Ma il capitano Minervini si è soffermato lungamente anche sulle prescrizioni non rispettate. Nella perizia, infatti, si parla di diverso materiale esplosivo rinvenuto fuori dal deposito autorizzato, materiale per cui non ci sarebbero state nemmeno le autorizzazioni necessarie alla custodia. Il consulente del PM ha scritto anche di 33 detonatori a miccia di origine militare stoccati all'interno di un ufficio e di 200 kg di esplosivo occultati in un casotto esterno alla recinzione della fabbrica. Poi ci sarebbe l'allarme sicurezza lanciato nel 2012 dalla Commissione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che per quattro volte un anno prima della tragedia aveva ispezionato la fabbrica di fuochi pirotecnici di Città Sant'Angelo, rilasciando una serie di prescrizioni attinenti alla prevenzione degli incidenti, che, come si legge nella consulenza, costituiva un invito per province comune ad intervenire con prescrizioni restrittive legate alla sicurezza.